bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sono Slenderman d'Italia e ho risolto Clash Royale un nuovo gioco per android disponibile sul play store che è un nuovo gioco simile a Clash of Clans ragazzi però dobbiamo scegliere questi ragazzi vi farò vedere delle partite e lo stai cercando ragazzi non faccio anche una parte di adesso un clan vedete Clash Royale, Stadio Goblin ragazzi potete saltare là, ragazzi ci giocavo così, questa è la mia tattica sembra mandare la campagna dei Goblin, e qua mando due, ragazzi vedete voi li mandate e loro attaccano, però ragazzi voglio fare un'attenzione perché secondo me il mio nemico si è forte è forte ragazzi il nemico, mando pure io la la mia palchiglia di livello 1, si ragazzi, no, si ragazzi ho ancora la palchiglia di livello 1, ma non me ne frega, ha del cucciolo di drago il mini pecca, si ragazzi qui c'è pure il mini pecca, invece del pecca c'è anche il mini pecca, e poi il mini pecca fa pure, fa un danno proprio della madonna abbiamo distrutto la prima torre un'altra capanna dei Goblin qua mando due arcieri ecco, ragazzi ho fatto bene a mandare gli arcieri perché i giganti hanno più vita di tutti se non lo sapete mi hanno già distrutto la prima torre ma non fa niente ragazzi ci possiamo ancora riprendere, ma secondo me il mio gigante è andato è stato vottuto il mio gigante però ho ancora il mio cavaliere lì quando il mio mini pecca perché ragazzi il mini pecca è molto forte però è molto rapido però come dire ragazzi da me chissà che mini pecca che pecca è qua mando i miei due arcieri che già si sono fatti male vanno un gigante vedi qua mando la panchina contro il gigante ragazzi e anche un cavaliere perché di arforte questo gigante ancora di livello 1 vabbè vorrei andare anche il mini pecca perché così faccio più danno il comando un altro vuoi da me ragazzi abbiamo uscito ad ucciderlo qui finisce proprio in pareggio grazie alla mia palchina ancora di 1 ditemi se vi piacciono questi se vi piace questo video perché ragazzi come video è bellissima non è perché è bellissimo sto video siiii ragazzi ho vinto 2 a 1 ragazzi un baule magico più trenta trofei si sblocca tra due cibo un baule super magico ragazzi prima cosa voi ragazzi voi vedete potete avere tra quelli di figuroni potete avere una una cassa poi c'è la cassa omaggio che ogni tre ore quattro ore vi potrà dare delle casse e poi qui ragazzi ci sono dei i titoli royal qui clan qui le vostre carte che potete poter potenziare qui ci sono bauli cose da acquistare ragazzi penso che questo video vi sia piaciuto lasciate molti mi piace vi vediamo al prossimo video bella rana